Ah, Arezzo. Ho visto quello striscione, come tanti striscioni visti in questi giorni. Penso che si commenti da solo. Ma non soltanto perché stiamo parlando di una delle rare città, poche città, che ha avuto meno governi del centro-sinistra, perché ha avuto soltanto, noi ad Arezzo abbiamo avuto soltanto quando si è candidato Fanfani, questo Fanfani Junior, non Fanfani Senior. Come dato di fatto, ha vinto una volta Nepi per quattro anni negli anni 90, ma è sempre stato in mano negli ultimi anni, anche alle ultime elezioni, ha vinto il centro-destra. Quindi definirla Terra Rossa ci vuole un po' di fantasia. Ma dà l'idea di un tentativo di strumentalizzazione che è in corso, come se la questione bancaria fosse responsabilità del PD. Non a caso si parla soltanto di Arezzo ed Etruria e non si parla di tante altre banche sulle quali vorrei ricordare il nostro governo è intervenuto facendo il decreto sulle popolari e vorrei chiedere a quelli che oggi dicono che noi stiamo difendendo chissà chi dove erano quando si è fatto la trasformazione in legge del decreto sulle popolari, quando accusavano di aggredire le banche del territorio. Ci sono tensioni, le vediamo, le assistiamo costantemente perché ovviamente questa vicenda è una vicenda che segna la vita di, ripeto, non moltissime persone, ma quelle persone sono segnate. E io ho il dovere di farmi carico di quelle persone, a condizione naturalmente che si possa essere un soggetto terzo. Noi abbiamo individuato gli arbitrati dell'ANAC che possano verificare che si è trattato di un caso in cui il soggetto ha diritto al risarcimento.